Il confine tra Grecia e Macedonia di fatto è ancora chiuso e nel campo di Domeni sono ammassate, io non riesco a trovare altre parole per definire questa situazione, ammassate 14.000 persone che si trovano con poco cibo e poca acqua, l'acqua potabile è davvero scarsa. Ieri noi abbiamo seguito, siamo rimasti tutta la notte nel campo profughi di Domeni per testimoniare quello che avviene e la notte si è aperta con un camion carico di viveri che è arrivato nel campo di Domeni e che è stato letteralmente preso d'assalto perché la gente ha fame, i profughi in questo momento sono affamati, hanno finito i soldi, non era nei loro programmi un viaggio così lungo, così estenuante, dunque hanno finito i soldi e non possono tornare indietro e non possono neanche andare avanti perché le autorità macedoni hanno bloccato la frontiera. I più fortunati riescono a dormire in tende molto molto arrangiate, i meno fortunati sono costretti a dormire all'aperto. Ieri la temperatura quando noi eravamo lì al campo era di 4 gradi, abbiamo visto dei papà dormire insieme ai loro figli all'aperto in attesa, nella speranza che quel cancello che separa la Grecia e la Macedonia si aprisse da un momento all'altro, abbiamo visto bambini buttati per terra con le coperte dormire lì tutta la notte, l'attesa davanti a quel cancello dura ormai da settimane, è una situazione davvero insopportabile, il campo di domeni rischia di diventare veramente non solo un'emergenza umanitaria ma un'emergenza sanitaria. Ieri parlando con un infermiere di Medici Senza Frontiere ci ha detto che ha riscontrato alcuni casi di scabbia, molti bambini hanno infezioni respiratorie, infezioni urinarie, davvero una situazione al limite se non oltre i diritti umani.